Una bambina voleva spostare un vaso di fiori molto pesante. La piccolina si sforzava, sbuffava, brontolava, ma non riusciva a smuovere il vaso di un millimetro. Ci stai mettendo tutta la tua forza? Le chiese il papà. Sì, tutta! Rispose la bambina. No! Ribatte il papà. Perché non mi chiedi di aiutarti? Dire il Padre Nostro è chiedere la forza a Dio. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. e non ci esporre la tentazione, ma liberaci dal male. Perché a te appartiene il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amén. Caro Gesù, perché Padre Nostro diventi la preghiera della mia vita, te la dirò quando sono felice e quando sono preoccupato. Sono certo che tu mi risponderai. Amén. Amén.